Allora, sì, praticamente bisogna coprire tutta l'area delle mani, cercando di frizionare il più possibile anche sul dorso e sul palmo delle mani. Questa è la tecnica che viene eseguita per avere il massimo della copertura per il lavaggio. Un decalogo per la popolazione per difendersi dal coronavirus, adottare dei comportamenti corretti e raccontarci tutto questo è Giovanni Grasso, coordinatore regionale delle professioni infermieristiche. Il primo punto è chiaramente il lavaggio delle mani, questo può essere fatto con sapone semplice e neutro o altrimenti con gel antisettici, quelli che classicamente possiamo trovare in qualsiasi farmacia. E soprattutto riuscire ad avere comunque delle accortezze per coloro che ritornano dalla Cina o altrimenti sono stati a contatto con persone che ritornano da questi paesi negli ultimi giorni. Regione Toscana e aziende sanitarie stanno dunque adottando misure più restrittive, soprattutto dopo la direttiva ministeriale. Ogni azienda sanitaria ha istituito un numero verde a cui i cittadini possono fare riferimento. Per la ASL Toscana Sud-Est il numero verde è l'800 579 579 e si può anche utilizzare la mail rientrocina.uslsudest.toscana.it Invitiamo tutti a contattare questo numero prima di recarsi personalmente al pronto soccorso. È chiaro che gli operatori della salute sono a stretto contatto con persone con patologie di questo tipo, però ci sono tutti dispositivi di protezione e questo permette una sicurezza adeguata degli operatori. È necessario ottenere comunque una collaborazione della cittadinanza perché la fiducia è estrema sia nel Ministero della Salute ma anche nei confronti del sistema sanitario nazionale e regionale. Dal punto di vista del lavaggio delle mani non va fatto in maniera frettolosa, giusto? Bisogna contare almeno fino a quanto? Dai 20 ai 30 secondi. 30 secondi sarebbe l'ottimale. Pertanto ci sono anche delle tecniche molto adeguate che possono essere reperite in qualsiasi sito internet che riguarda poi il lavaggio delle mani. Anche noi come Ordine delle Professioni Femministe che sono le nostre pagine social e sul nostro sito abbiamo inserito un video dove spieghiamo nell'accuratezza la tecnica del lavaggio delle mani. Pertanto vi invito a visitare le nostre pagine per poter eseguire al meglio il lavaggio.